Ciao a tutti, sono Salvatore Mazza e sono lieto e felice di aver ricevuto il premio Vincenzo Crocitti International. Io l'ho ammirato in un borghese piccolo piccolo per la sua interpretazione. Devo dire che mi ha sempre colpito questo attore per la sua naturalezza e spontaneità. Voglio ringraziare l'autore e direttore del premio Francesco Fiumarella. Per me è uno stimolo per continuare, per continuare a studiare e per dare sempre il massimo. Grazie a tutti.